creare uno stile personalizzato in excel è molto semplice andare su home gruppo stili stili cella alla cella a1 è applicato lo stile titolo 1 il nuovo stile che andiamo a creare prenderà inizialmente le caratteristiche di questo titolo 1 e aggiungeremo altre caratteristiche andiamo quindi su nuovo stile cella clicchiamo diamo un nome macraris l'ambito di applicazione dello stile che andiamo a creare è questo andiamo su formato andiamo ad esempio colore motivo nella scheda riempimento scegliamo verde stile motivo scegliamo grigio ok ok di nuovo ritorniamo al gruppo stile stili stili cella e se puntiamo la il mouse il puntatore del mouse su macraris in previsualizzazione abbiamo il nuovo stile che abbiamo creato applicato clicchiamo ed ecco il nuovo stile ritorniamo a stili cella e possiamo se non ci serve più cancellare lo stile creato con clic destro del mouse elimina la cella a qui era stato applicato lo stile cancellato prende ora lo stile predefinito normale grazie dell'attenzione clicca mi piace al video e registrati al mio canale wii excel per rimanere aggiornato